Ce lo spiega lei cosa? E' vero, io sono stata coinvolta in questa associazione per caso, infatti dico sempre che le cose belle nascono per caso. Chiamiamola, come si chiama questa associazione? L'associazione è H21 di ragazzi down e ci siamo conosciuti in estate in un lido al mare, così abbiamo chiacchierato e poi perché no iniziare proprio le attività con i ragazzi, anche perché credo che la danza è veramente aperta a tutti e quindi può praticarla chiunque, soprattutto loro che alla fine regalano molto di più di quello che noi diamo a loro. Sì, concordo anche perché danno molto emotivamente loro, quindi basta poi poco, basta uno sguardo, un abbraccio, un sorriso e dico che alla fine è quello che vale la pena di vivere e quindi sono grata a tutto questo.